Buongiorno signori, allora oggi siamo a Bucharest, siamo qui al giardino botanico Dimitri e Brunza e stiamo visitando tutto il giardino botanico, la serra, dove hanno filmato anche mercoledì e tra poco andremo a mangiare qualcosa a Anubararilor, un pranzo tipico tradizionale e poi andremo a vedere il Parlamento, vedrete tutte le foto e i video tra pochi giorni Ciao a tutti, un bacio! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti